Come vi avevo promesso, oggi vedrete il trailer dell'anteprima Melodia d'Amore, perché il boss mantiene sempre le sue promesse. Ma il boss non si ferma qua, perché nelle prossime settimane vedrete altri trailer di anteprime che stiamo girando. Seguiteci e vi divertirete... Ups, avevo dimenticato di presentarvi una mia collaboratrice. No, la mia migliore collaboratrice. Ecco, ok. Lei ci aiuta a fare questi video bellissimi, ma lei è bellissima. Eh, lo so, faccio lo stesso effetto a tutte, le faccio girare la testa. Parola di boss. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.